L'impianto scissico ai prati di Tivo sarà gestito dalla Siget per 100.000 euro all'anno. Il consorzio di imprese verserà alla provincia di Teramo il 10% degli utili per incassi da 500.000 euro in su. Si chiude così il lungo capitolo della gestione affidamento impianti che, come ogni anno, porta con sé numerose polemiche vissi i costi di gestione. Manca solo la formalizzazione contrattuale. Anche quest'anno, con grandi sacrifici, siamo riusciti ad assicurare la funzionalità degli impianti. Grazie anche all'impegno della provincia, del Presidente di Sabatino, che ha preso molto a cuore questa situazione. Grazie anche alla disponibilità della Siget. E, permettetemi, grazie soprattutto ai sacrifici che anche quest'anno la Gran Sasso Teramano si è vista costretta a sopportare, pur di dare una mano all'economia del territorio montano in una fase come quella attuale, che è una fase di grande difficoltà. Aspettiamo la neve, le previsioni ce la danno per imminente e speriamo che i sacrifici che abbiamo sostenuto tutti quanti possono almeno essere compensati da una bella stagione, da belle giornate e soprattutto da un bel afflusso di persone. Avete già pensato come poter affrontare l'anno prossimo? Sì, noi abbiamo un progetto con il Presidente di Sabatino. Noi dobbiamo creare una ristrutturazione, non solo della società, ma soprattutto creare un unicum di tutti gli operatori che gravitano su Pratiritivo e anche su Pratoselva. Quella unicità di intenti che è un passaggio necessario per poter progettare un futuro in maniera stabile. utilizzeremo i prossimi mesi proprio per arrivare in tempi brevissimi alla definizione di questa nuova prospettiva. È necessario per assicurare il futuro alla montagna Terraman.